Rilanciare e dare ulteriore visibilità ai paesi dell'area del Casauriense nel Pescarese attraverso iniziative ed eventi di carattere culturale. Questo l'obiettivo del progetto di valorizzazione dei luoghi medievali presentato oggi a Pescara dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Protagonisti del progetto saranno i paesi di Castiglione a Casauria, Bolognano, Tocco da Casauria e Torre dei Passeri. Abbiamo approvato una legge che tende alla valorizzazione del nostro patrimonio medievale che in Abruzzo è molto importante, con un'importanza superiore alla percezione che ne hanno gli stessi abruzzesi. Quindi abbiamo approvato questa legge, abbiamo messo un bando e devo dire i comuni dell'area del Casauriense, quindi Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Bolognano e Torre dei Passeri, hanno immediatamente colto l'occasione, si sono associati tra di loro e intorno a questo enorme giacimento di importanza monumentale che è l'Abbazia di San Clemente a Casauria, che noi dobbiamo rilanciare e finalmente riuscire a sostenere per tenerla aperta, convincendo il Ministero dei Beni Culturali a darci retta, hanno creato un programma culturale sul Medioevo che parte dal 25 agosto e terminerà il 3 agosto. In ogni realtà di questi paesi cercheremo o di portare avanti un'iniziativa culturale, musicale, artistica sul Medioevo o di valorizzare con un artista di livello nazionale un patrimonio medievale presente, che sia un castello, un convento, un borgo, oltre all'Abbazia di San Clemente a Casauria. A San Clemente a Casauria ovviamente avremo la manifestazione di punta, che è il concerto di Angelo Branduardi, che ci pareva l'artista che potesse avvicinare la maggior numero di persone a questo importantissimo monumento.